Questo programma è offerto da... Da Euronics Gruppo Tufano i prezzi più bassi, sempre, altrimenti ti rimborsiamo. Euronics Gruppo Tufano Amici appassionati di ciclismo, buonasera, ben ritrovati su Capri Event. Sì, voi direte, novembre comincia una trasmissione dedicata al ciclismo, beh, insomma, le cose non tornano, invece sì, perché noi, nonostante il periodo di pausa del ciclismo, quello che chiamate voi, il ciclismo su strada, a gran fondo, gare a circuito, randonnei, insomma, noi eseguiamo un po' di tutto, un po' stiamo in giro per la campagna a 360 gradi, però oltre questo tipo di sport a due ruote, oltre queste manifestazioni dedicate alle due ruote, è il momento adesso delle due ruote però fuoristrada, il classico ciclocross, ciclocross che negli ultimi anni sta prendendo quota, sta veramente, ottenendo tanti riscontri, aumentano i numeri, i numeri di appassionati a questo sport dedicato, perché poi il ciclocross va verso l'estremo, no? C'è lo sterrato, c'è il fango, poi in inverno troviamo veramente percorsi a volte particolarissimi, dove ci si combina veramente di brutto. Però io per parlare di ciclocross non è che mi sono inventato così all'improvviso un appassionato di ciclocross e vado e entro nei dettagli, no? Sapete che il primo di ottobre è cominciato il Giro d'Italia ciclocross, toccherà anche la campagna e toccherà la campagna proprio il 12, domenica 12 novembre a Grumo Nevano, ma per parlare di ciclocross cosa ho fatto? Ho inventato colui che sta portando l'Italia a livello mondiale con dei risultati eccezionali, ed è il CT della Nazionale Azzurra ciclocross Fausto Scotti. Buonasera. Buonasera a voi, buonasera a tutti. Allora, insomma, noi siamo abituati al ciclismo su strada, no? Le due ruote più tranquille, più serene, più pacate. Invece il ciclocross negli ultimi anni sembra proprio avere un riscontro e un successo bello. Beh, sì, il ciclocross è cresciuto moltissimo, quest'anno in particolar modo. Solo a pensare che l'8 ottobre c'erano quattro gare in tutta Italia e in ogni gara sono partiti una media di 300 atleti, agonisti sono grandi numeri. Facendo un Istat con il mio collaboratore Luigi Bielli abbiamo constatato che sono più di 3.000 praticanti. Considerate che ogni atleta ha mediamente 2, barra 3 biciclette, più 6 o 7 coppie di ruota di scorta e anche un business per coloro che fabbricano biciclette. Poi comunque è un'attività invernale, per gli atleti polivalenti è molto buona. Abbiamo visto anche grandi atleti come Sagan, Trentin, Aru, Lars Boom, Stibar, tutti atleti che comunque avendo fatto ciclocross si sono ritrovati bene anche nelle classiche tenordi e in gare a tappe. Ecco, lei sicuramente può rispondere a una mia domanda. Noi seguiamo parevalentemente, lo definiamo ciclismo amatoriale, perché purtroppo la campagna manca dal ciclismo che conta, quello professionistico, da un bel po' di anni. Quindi il nostro è un indirizzo verso il ciclismo amatoriale. Però la domanda è questa. Allora veramente colui che pratica il ciclismo su strada poi nel periodo invernale si può dedicare al ciclocross e l'allenamento che dà il ciclocross può essere utile per la strada? Beh, sì. Diciamo che ci sono tutte le squadre del nord, specialmente fiamminghe, che si allenano prevalentemente con la bicicletta di ciclocross. Proprio nei campi di ciclocross fanno palestra all'esterno delle strade proprio per migliorarsi anche nella guida. Perché comunque il ciclocross ti dà un miglioramento sulla guida. Il ciclocross del miglioramento. Ecco, ciclocross. Insomma, noi invece siamo abituati che nel periodo invernale lasciamo la bici alla strada, prendiamo la mountain bike e siamo sempre su strada. Ecco, quindi cambia pochissimo. Allora, tante sono le domande da fare al CT della Nazionale Azzurra, Fausto Scotti, però tante sono le domande che voglio porre a colui che in Campania veramente dedica tantissimo del suo tempo. Lo avete visto anche nella sigla, questa trasmissione 52 per 12, che è alle mie spalle, lo vedete, insomma, bello impresso, 52 per 12, che è stato anche motivo di discussione, questo per 12 perché siamo ritornati a una dicitura che si usava tantissimi anni fa, proprio per dimostrare che il ciclismo non è uno sport giovane, anzi, insomma, dobbiamo tornare veramente agli anni 40, insomma, gli anni che forse tanti di noi oggi non ricordiamo e non conosciamo nemmeno. È una persona che, nonostante la sua giovane età, però a livello nazionale è al fianco del ciclismo, ci dirà perché solo al fianco del ciclismo femminile, però per la Campania sta facendo veramente tanto. E sto parlando di Salvatore Belardo. Buonasera Salvatore. Buonasera Amino, buonasera ai telespettatori. Allora, Salvatore, Salvatore Belardo che negli ultimi tempi è stato conosciuto per il suo giro della Campania, invece tu quest'anno hai voluto riproporre a Grumo Nevano una manifestazione che ricorda una persona molto importante, però con una gara di ciclocross. Sì, diciamo che sarà il quarto memorial dedicato a mio padre che è venuto a mancare nel 2010 ed era uno conosciutissimo nell'ambiente e anche amico del padre di Fausto, quindi per questo c'è stato sto legame, oltre che dare il mio supporto tecnico al giro di Italia-Ciclocross, ma quando Fausto ci siamo visti per mettere giù il giro di Italia-Ciclocross è nata questa cosa di organizzare questa tappa in memoria di mio padre che tra virgolette era anche amico del padre. Beh, queste cose sono situazioni che emozionano ricordare, avere ricordi, poi portare dopo anni, insomma a distanza di anni, trasformare le amicizie dei genitori, poi si trasformano nelle amicizie dei figli, insomma veramente è una cosa bellissima da vivere. Allora andiamo proprio con il discorso del giro d'Italia-Ciclocross, noi mentre parliamo di tanto in tanto vanno delle immagini che ci fanno capire un attimino com'è una gara di ciclocross. Ecco in questo momento stiamo guardando le immagini di Numana, la gara che si è tenuta il primo ottobre. Allora a Fausto Scotti domando e chiedo per realizzare un percorso di gara quanto spazio serve o se ci sono degli obblighi da rispettare? Ma sì, intanto le regole bisogna sempre rispettarle perché comunque ci sono dei regolamenti nazionali e internazionali insieme alle norme attuative che vanno rispettate anche per la tutela degli atleti stessi. Provate a considerare il fatto che si possono mettere soltanto due ostacoli artificiali che sono le classiche tavole a 4 metri una dall'altra, larghezza dai 3 ai 4 metri. Comunque poi all'interno del percorso ci sono anche degli ostacoli naturali che possono essere anche delle scale o delle salite abbastanza impegnative dove sono costretti a scendere a piedi gli atleti. Spazio non ce le vuole tantissimo. Puoi lavorare anche su 500 metri quadrati o addirittura su 1000 metri quadrati dove puoi fare un po' di tutto e cercare di capire come gestire il percorso anche per dare accesso al pubblico e lasciare dei spazi liberi per far accedere al pubblico che non dia fastidio anche alle immagini televisive quando le telecamere devono riprendere e in più poi ci si mettono dentro delle porte per far entrare e uscire le persone. Mediamente in queste tappe partono dai 500 alle 600 atleti agonistici. Per questo Giro d'Italia quanti atleti è un'iscrizione unica per tutte esse le gare o ogni gara è singola? Allora, il Giro d'Italia di Cicocross è nato dieci anni fa proprio per dare un po' l'elite in una gara secca e quindi questo fa sì che mediamente gli atleti che girano sono quasi sempre gli stessi da tutta Italia che arrivano sulla tappa dove vengono svolte. Quest'anno le tappe sono sei dove gli atleti mediamente il numero continua ad aumentare sempre andando incontro all'inverno centrale come a dicembre, novembre e poi i primi di gennaio dove a gennaio poi ci saranno i campionati italiani a Roma 5, 6, 7 gennaio dove aspettiamo intorno alle 1300 atleti. Ecco, abbiamo accennato dei campionati italiani però è bello sapere sempre ad alti, ai vertici cosa si fa. Io insomma prima fuori onda stavamo parlando dell'esperienza che avete avuto siete reduci da un'esterna con successo avete ottenuto dei risultati eccezionali anche con le donne avete insomma avuto tante medaglie quanti? Sì, siamo tornati con due medaglie dai campionati europei che si sono svolsi a Tabor vicino Praga Anceco, Slovacchia siamo stati molto contenti dei risultati che hanno fatto gli atleti siamo andati già molto preparati perché comunque sapevamo che in quelle categorie si poteva fare risultato la Teocchi si è riconfermata di nuovo campionesta europea come aveva fatto già l'altro anno in Francia e ha gestito bene la gara gli è stata gestita fino al finale di corsa e quindi ha ottenuto questo primo posto riconfermandosi campionesta europea nell'anno del 23 e non è stato non è stato facile comunque riconfermarsi con questo piazzamento d'appoggio a lei c'è stata la Silvia Persico che comunque è stata molto valida per poter tenere d'appoggio le ragazze che tentavano di riprendere la Teocchi e Sara Casasola che comunque l'anno passato era arrivata quarta dove la Teocchi aveva già vinto in Francia quest'anno non si è trovata proprio in giornata ottimale è una ragazzina molto giovane nella cala Donnellitte l'Alice Maria Zuffi ha perso l'Europeo all'ultimi 600 metri non per mancanza di gambe ma per l'emozione di poterlo vincere quindi nello sprint poi è arrivata terza ottima prestazione di Giovele Bertolini primo anno elite a corso tra i professionisti ha lottato fino in volata per il terzo posto perché i primi due Van der Haan e Van der Poel sono andati subito all'attacco all'inizio subito hanno guadagnato 30 secondi e poi pian pianino Van der Poel è arrivato con oltre un minuto e 45 sul secondo il terzo atleta classificato ma questo comunque è un atleta che va molto forte diciamo che ha già avuto molte proposte anche dalla Sky per passare su strada perché è un atleta molto interessante potete immaginare che è un giro a tappe che ha svolto quest'anno in Francia su cinque tappe in A24 e addirittura ha battuto Cronomen nella cara a Conometro quindi ciclocrossi ci sono degli atleti che vanno molto forti le medie sono molto alte scendono due o tre volte dalla bicicletta e riescono a fare 29-30 anni media quindi insomma la fatica è veramente tanta però quello che ormai non mi impressiona perché è da un po' di tempo che le donne nel ciclismo quello su strada le donne si stanno facendo largo da sole e da quello che ho sentito che abbiamo sentito tutti anche nel ciclocross la donna sta portando l'Italia insomma a dei livelli alti insomma le distanze sono veramente veramente minime ma perché la donna avanza insomma l'uomo adesso ci abbiamo i nibali di turno ci abbiamo ancora gli aru di turno però insomma poi avremo sicuramente un periodo di pausa no? ma in tutti i settori comunque anche nell'ambito lavorativo la donna la sta facendo da padrona e quindi noi abbiamo sempre puntato su questa categoria da quando è stata inserita nel ciclocross e comunque ci sono atleti molto importanti che svolgono attività su strada e ciclocross oppure strada e mountain bike quindi atleti polivalenti sono ragazze che comunque chi ha anche famiglia oppure ragazze che comunque lo fanno proprio per professione siamo la prima nazione con più praticanti donne al mondo e questa comunque ecco la facciamo un po' da padroni lottiamo con delle atlete molto valide come la Marian Vost la Sanacante che comunque sono atlete che vanno molto forte la Vost ha vinto più di 12 mondiali ma anche su strada in pista quindi lottiamo con con atlete molto valide molto forti che comunque stanno adesso arrivando al pari livello nostro e quindi noi siamo felicemente contenti che stiamo crescendo domenica la Eva Lechner ha corso il campionato europeo dove si è classificata al sesto posto ma l'abbiamo un po' sacrificata per fare i primi due giri in appoggio alla Alice Maria Zuffi perché comunque la Lechner è arrivata col 50% del suo potenziale e quindi insomma gioco di squadra Salvatore allora questa forse è l'autoscelta che ti sei rivolto al girosa perché i numeri i numeri crescono insomma dice ok c'è futuro nel giro nel girosa no scherziamo Salvatore Belardo parlaci di questa edizione per la prima volta ciclocross a grumo una domanda non è una domanda no sì sì per dire il vero no perché c'è stata negli anni 90 l'idea di organizzare già una gara di ciclocross a grumo nevano andata a buon fine sì sì all'epoca era presidente Raffaele Reccia il nostro compianto vicepresidente vicario della federazione che organizzò una gara di ciclocross con il S.C. Grumese insieme a il Pito Bottiglieri e a Gervasio sono due personaggi di grumo nevano che avevano l'OS.C. Grumese all'epoca una società di lettanti forse tu te la ricordi vero? la grumese quindi a distanza di anni ritorna a grumo nevano al ciclocross c'è stata questa idea proprio di organizzarla dietro lì al campo sportivo e quindi è l'unica zona anche idonea per fare attività perché grumo purtroppo cioè non purtroppo è ben edificata quindi ci sono pochi spazi verdi e poche campagne per noi siamo per la cementificazione non siamo per il verde allora come si presenterà questa tappa del 12 di grumo nevano come è organizzato sabato ci saranno sabato pomeriggio dalle 14 alle 16 ci saranno le prove del percorso in contemporaneo ci sarà anche la verifica licenze e gli accrediti per gli atleti alle 16 e 30 al comune di grumo nevano ci sarà la conferenza stampa di presentazione della tappa e poi gli atleti andranno a riposare e il lunedì mattina si partirà dalle 9 fino alle 16 non stop con tutte le categorie partire dai giovanissimi G6 fino ai professionisti diciamo fino ai professionisti quindi sarà una bella una bella giornata lunga sperando nella clamenza del meteo che insomma in questa settimana tra domenica lunedì e martedì un po' mercoledì no mercoledì forse no insomma c'è stato del sole poi insomma noi ci auguriamo veramente in un tempo buono la cosa importante è che torna a distanza di anni il ciclo cross questo ha dimostrazione che in campagna abbiamo tantissimi appassionati perché mi rivolgo a Fausto Scotti io sono uno degli appassionati di ciclismo solo che veramente sono un amatore puro per me la bici è un tocca sana è una mente sana corpo alle sano insomma devo uscire la mattina quelle due ore servono però poi parlando divulgando la notizia che il 12 ci sarà questa gara di ciclo cross veramente ho scoperto che ci sono tantissimi appassionati di ciclo cross che mi hanno detto e mi hanno fatto dei nomi che per me erano stavamo su Marte no alzo le mani non non seguo il ciclo cross però insomma secondo me è una branchia del ciclismo che deve essere curata con più attenzione perché può avere veramente i numeri giusti beh sì comunque io conosco bene la campagna perché comunque con mio papà ho fatto tantissime gare di ciclo cross in campagna come il borgo cross di caserta vecchia ci sarà il 26 novembre sì due settimane dopo il giro d'Italia l'ho vinta molte volte mi ricordo quando Raffaele ci ha mai invitato all'inaugurazione di Marcianese della pista e comunque l'automo ho vinto anche una gara lì con con cardinali sia il figlio che il papà si facevano molte gare quindi io diciamo che la mia infanzia da giovane l'ho fatta tantissime gare in campagna e mi scontravo con i dati molto importanti che comunque non vincevo sempre quindi ho trovato sempre una buona palestra e quindi sono convinto che anche comunque adesso il presidente regionale attuale il comitato regionale lavora molto per l'attività del fuoristrada e quindi c'è sempre una buona una buona crescita una buona crescita ecco parliamo di crescita giustamente l'equipeo del CT della Nazionale Azzurra può dare delle indicazioni ecco una domanda che pongo però va riferita a coloro che vogliono affacciarsi a questo questo sport magari non sono convinti al 100% perché c'è sempre quell'affare rotondo che sin da piccoli ci viene inculcato nella mente forse ultimamente sta cambiando un pochettino la scena anche perché non ha stima in campagna ci sono 15.000 tesserati cioè tra enti e federazione quindi siamo in aumento però ecco un consiglio che si sente di dare il CT della Nazionale a tutti quei giovani che sono spinti però si frenano intanto comunque c'è da considerare il fatto che in qualsiasi disciplina si faccia il ciclo cross è la disciplina che ti dà più stile elasticità e comunque ti aiuta proprio alla guida proprio del mezzo e una cosa importante non sottovalutare anche la pressione delle gomme che si vengono che vengono utilizzate provate a immaginare a volte ci sono delle gare che siamo con una pressione da 1,2 atmosfere o addirittura 1,1 quindi spesso vediamo anche delle gare di professionisti dove vengono ci sono molte cadute e non riusciamo a capire il perché perché comunque a volte gonfiando una ruota a 12 atmosfere quando comincia ad arrivare un po' d'acqua e la ruota in carbonio non riesce a frenare come dovrebbe alla fine un po' si scivola questa ecco la disciplina giusta per poter imparare a guidare è proprio questa acqua del ciclo cross si può fare con qualsiasi tipo di bicicletta a livello regionale e nazionale le biciclette partono mediamente da 400 euro fino poi ad avere un'alta gamma che può essere 2-3 mila euro ma comunque con una bicicletta l'attività del ciclo cross si può fare benissimo una cosa da non sottovalutare è una palestra a cielo aperto d'inverno comunque si combattono molto gli stati influenzali andando nei campi andando all'esterno fa bene per i bambini comunque è una cosa che possono sapere gli atleti anche a livello amatoriale che comunque nel ciclo cross si elaborano sempre in più quei 100-150 watt in più perché comunque sul terreno che non è scorrevole c'è da spingere e si ci si ritrova poi all'inizio delle gare su strada ad avere anche a livello di spirometria e di a livello polmonale più fiato di quello che non ci si può avere quando si inizia direttamente a febbraio a marzo a fare sullo strada ecco parlando di sping stiamo guardando le immagini dove si veramente si spinge quando si va dallo serrato all'asfalto quindi Umana insomma avete preso Umana una giornata meravigliosa c'è stato sole invece la seconda tappa a Ferentino a Ferentino è stato un percorso diverso da quello di Umana che era molto pedalabile con tratti molto stretti c'erano molte curve proprio per far sì che agevolare i ragazzi sulle prime gare di inizio stagione abbiamo trovato oltre 23 gradi quindi con i 23 gradi si applica poi il regolimento del luci che si può partire con il porta borraccia e la borraccia all'interno se finisce l'acqua per avere rifornimento bisogna rientrare nel box e prendere la bicicletta di scorta con la borraccia dentro non si può effettuare il rifornimento questo c'è una grossa penalità da parte della giuria se viene fornito perché poi questa differenza ma è questo perché comunque essendo in un tratto del Prado nel Cicocross il terreno è molto sconnesso quindi per prendere una borraccia si può cadere o si può stacolare anche l'avversario e quindi si può causare anche danno una volta presa la borraccia a volte il percorso si incrosa andando sia a scendere che a salire e quindi ributtando via la borraccia si può causare è un problema all'avversario quindi entrando nel box la borraccia all'interno del porta borracce e quindi per avere rifornimento devi riprendere la borraccia in quel modo che poi alla fine può sembrare una cosa assurda ma è una regola che vale per tutti non per alcuni quindi alla fine è la stessa cosa comunque prima i regolamenti cambiano sempre l'Unione Ciristica Internazionale fa dei regolamenti e poi tutte le nazioni si adeguano a quello che può tirare fuori l'Unione Ciristica Internazionale precedentemente era differente si poteva entrare nel box prendere la borraccia e riuscire dal box questo era un po' d'astuzia per gli atleti che comunque nella parte del box era un po' più scorrevole e allora entravano facendo finta che prendevano l'acqua invece era soltanto per passare la fila che di qua era un po' più efficace e beh insomma i trucchi del messire insomma fatta la legge trovato trovato l'inganno allora siamo alla terza tappa domenica domenica 12 novembre grumo nevano protagonista poi ci sono altre tre tappe 3 dicembre 10 dicembre e leggo 23 dicembre è una data 23 dicembre sarà l'ultima tappa si farà Barletta Carrea Luigi che è un atleta che adesso fa l'amatore e comunque i figli che corrono ha voluto fare questa scommessa di mettere la gara il 23 nella tappa del Giro d'Italia il 24 farà una gara regionale lasciando tutto puntato quello che sarà il giorno del 23 è un percorso dove ha già fatto un campionato europeo è già stato testato e quindi farà piacere insomma le persone intanto che gareggeranno due volte sullo stesso percorso avendo anche la rivincita il giorno dopo e poi comunque in un contesto molto caratteristico all'interno del castello ci sarà ci sarà anche molta gente perché saranno dedicati anche dei spazi a livello natalizio e beh insomma un Natale sulle due ruote questo è bello perché non è da tutti vivere vivere il Natale sulle due ruote eh Salvatore ha bloccato anche l'epifania con il campionato italiano l'epifania giustamente Natale e l'epifania ha lasciato Capodanno libero Capodanno lo lasciamo libero perché giustamente c'è poco 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 di movida e quindi o no o no a Capodanno non possono diciamo che intanto il 24 c'è l'Urago d'Erba noi 25 mattina tutti gli anni si parte e fin quando correvo dicevo non vedo l'ora di smettere così questa gara non la faccio il 26 dicembre c'è il Gran Premio di Zolder in Belgio e c'è la prova di Coppa del Mondo quindi noi tutti gli anni 25 mattina si parte e si corre a Zolder il 24 c'è l'Urago d'Erba in Lombardia dopodiché si arriva ai piedi del 31 ci sono due gare in Svizzera e uno in Lussemburgo e il giorno dopo si ricore in Belgio in Lussemburgo quindi il cielo grosso non si ferma mai il ciclo grosso non si ferma ma comunque le festività natalizie non ve le vivete ma diciamo che comunque le assapori anche di più perché quel periodo là riesci a rientrare a casa e ti dedichi un po' anche alla famiglia perché comunque le coincidenze aeree adesso sono molto cambiate quindi si riescono a trovare le coincidenze per tornare a casa e stare con i parenti però comunque il 25 si riparte anche se corri il 24 il pomeriggio il 24 sera riesci a stare a casa tranquillamente io mi ricordo anche diverse gare che abbiamo fatto anche all'estero comunque si riusciva a ritornare a casa e stare con i parenti questo succede un po' a tutti gli atleti del mondo certo sì questo poi con la ecco l'abbiamo detto con i voli aerei insomma oramai la distanza è veramente irrisoria un'ora prima sei in Svizzera un'ora dopo sei seduto a tavola cioè voglio dire l'Europa è diventata l'Europa è veramente raggiungibile sì 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 si è raggiungibile tranquillamente allora Salvatore noi siamo in chiusura della prima puntata 52 per 12 che a te a lui insomma Salvatore non andava giù questo per questo per no no ma invece noi dobbiamo ecco tu hai ricordato che praticamente a voi due vi lega un'amicizia dei vostri genitori quindi è una cosa un po' di qualche anno fa e noi abbiamo voluto ricordare questa moltiplica che insomma è così è stato il mio rapporto che ho utilizzato appena passato di categoria quindi era il 52 12 che si utilizzava in quella mente all'epoca era pure il minore diciamo perché poi scende il cambio a 12 a 13 poi si è arrivato all'11 quindi alla fine alla fine ho fatto una cosa buona dai alla fine insomma esce fuori che ho fatto una cosa buona allora abbiamo detto 12 11 e 12 novembre Grumo Nevano per la tappa del Giro d'Italia ciclocross che sicuramente è la prossima puntata settimana scorsa settimana prossima insomma andiamo a ritroso settimana prossima vedremo una sintesi di quella di quella che è stata questa questo meraviglioso fine settimana a Grumo Nevano però Belardo Sport è con anticipazione su quello che sarà il Giro della Campania il 2018 in due ruote diciamo che le tappe le lasciamo non diciamo tutto adesso perché poi ci abbiamo quasi terminate mi manca una tappa ancora da cioè che siamo in fase ho sospeso io un po' diciamo i lavori del Giro di Campania perché mi dovevo dedicare un po' al ciclocross la data diciamo la potremmo già iniziare a dire dal 19 al 22 aprile quindi precederà il Gran Premio di Liberazione 19-22 aprile Gran Premio di Liberazione visto che Salvatore ha voluto anticipare le date per gli appassionati di ciclismo che ci stanno guardando in questo momento io vi anticipo mi azzauro a dire che Capri Event seguirà il giro della Campania in rosa e insomma ci saranno grosse novità mi azzazzo ci stanno ci stanno delle novità ecco mi fermo mi fermo qui ma insomma state sintonizzati stay tuned come si bisogna dire perché perché veramente ci sono tantissime novità io ringrazio Fausto Scotti per la presenza qui questa sera a 52 per 12 in bocca al lupo per l'attività di ciclocross insomma un 2017 che è andato bene e andrà ancora meglio in questi ultimi in questi ultimi mesi un 2018 che ci auguriamo sia proprio idilliaco noi ci auguriamo intanto di continuare così perché comunque domenica abbiamo fatto ottimi risultati ai campionati europei adesso avremo le prossime quattro prove di Coppa del Mondo dalla Danimarca poi li passeremo due volte in Belgio e una volta in in Olanda e poi ci saranno i campionati del mondo dove cercheremo di di da fuori almeno qualche podio importante ma anche una maglia dove la stiamo puntando da anni e quindi che dire siamo molto contenti di come stanno lavorando tutti i comitati regionali e il settore cresce più di 3.000 praticanti quindi siamo felici di avere un bel bacino di utenza per pescare gli atleti del futuro sicuramente e allora mi corre l'obbligo che di tanto in tanto non settimanalmente ma periodicamente devo dare un occhio importante a quello che è l'attività di ciclocross a livello regionale ma anche a livello nazionale perché abbiamo inaugurato questo nuovo percorso di 52 per 12 qui a Capri Event con la presenza di Fausto Ascotti quindi ci corre l'obbligo anche di propagandare il ciclocross Salvatore noi ci diamo l'appuntamento alla prossima settimana domenica mi raccomando lavora bene ormai è un mago del ciclismo è un mago delle due ruote è un mago delle organizzazioni avremo modo nelle puntate di 52 per 12 di mettervi a conoscenza di tutto quello che sarà il percorso del 2018 qui in Campania anche perché siamo in un periodo tra virgolette di pausa agonistica quindi noi ci dedicheremo agli ospiti e a quelle che saranno le evoluzioni nelle organizzazioni quindi a questo punto io vi saluto vi ringrazio della vostra attenzione l'appuntamento sicuramente per la prossima settimana stessa ora sempre qui su Capri Event da Milo Monelli buon ciclismo a tutti questo programma è stato offerto da Fino al 22 novembre da Euronics Gruppo Tufano scontaliva al 22% Lenovo Notebook Processore Intel Core i3 da 428 a 349,99 euro Samsung Galaxy Tab A6 da 293 a 239,99 euro Sony Xperia XA1 Ultra da 379 a 310 euro prima rata Pasqua 2018 in 20 mesi a tasso zero da Euronics Gruppo Tufano i prezzi più bassi sempre altrimenti ti rimborsiamo Euronics Gruppo Tufano